Prosegue la vicenda che vede contrapposti la comunità di Valle Alto Garda e Liedro e l'ex comandante della polizia locale Ivano Berti. Nei giorni scorsi Berti si è infatti rivolto ai giudici per fare causa al suo ex datore di lavoro, la comunità di Valle, a seguito del defenestramento avvenuto nell'estate 2015, poche settimane dopo le elezioni amministrative comunali. I legali di Berti hanno depositato ufficialmente il ricorso e la comunità dal canto suo si è costituita in giudizio nominando un proprio legale di fiducia. Nel ricorso al TAR i legali di fiducia di Berti affermavano che il responsabile della polizia locale deve rivestire la qualifica di dirigente e nel corpo della polizia altogardesana non vi sarebbe stato nessuno con i requisiti di professionalità e la laurea magistrale per ricoprire questo incarico. La comunità di Valle si è sempre difesa affermando la regolarità delle decisioni assunte nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti.